Soldi freschi in arrivo tramite i fondi strutturali europei per l'ammodernamento dell'istituto comprensivo Francesco Giorgio di Via Dante. La validazione del progetto esecutivo è stata effettuata dal presidenzo Pace, responsabile unico del procedimento, con il tecnico comunale Antonino Napoli, supporto al RUP e con il progettista, l'architetto Fiorella Silvestri. Parlando di cifre, il bando di gara prevede per l'appalto dei lavori un importo a base d'asta di 119 mila euro, oltre a 15 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed ulteriori 37 mila euro per il costo della mano d'opera non soggetto al ribasso d'asta ai sensi del decreto del fare. L'urgenza nella realizzazione dei lavori è evidenziata anche dal bando di gara che recita i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e lo sviluppo entro una tempistica breve della procedura d'affidamento costituisce per codesta istruzione scolastica soluzione ottimale per consentire alla realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche. Risorse importanti in vista pertanto per il complesso della badia, la giudicazione della gara avverrà seguendo il criterio del prezzo più basso. Di diversa natura i lavori che verranno effettuati nel plesso. L'intervento, si legge ancora nel bando, è finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Francesco Giorgio plesso badia in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di lavori che riguarderanno l'adeguamento acustico con isolamento e riduzione al minimo della trasmissione tra ambienti interni del rumore, dell'adeguamento dell'impianto elettrico e della realizzazione di una scala metallica esterna di sicurezza. Il termine ultimo perentorio per l'invio dei plichi è stato fissato nel prossimo 15 marzo alle ore 12 e le offerte dovranno pervenire direttamente alla segreteria dell'istituto scolastico di via Dante. Il complesso della badia è uno dei più antichi presenti in città e da sempre ospita scuole. L'istituto comprensivo Francesco Giorgio comprende anche la scuola media Gaetano De Pasquali e appunto la badia. Il bando, seppur non in maniera esplicita, lascia intendere che i lavori, una volta giudicata la gara, potrebbero iniziare anche al termine dell'anno didattico in corso, così da permettere alla ditta giudicataria di poter lavorare durante la stagione estiva in essenza di studenti all'interno del plesso.